rosalinda cannavo e andrea zenga hanno svelato il sesso del loro primo figlio che nascerà a settembre meno di un mese fa su instagram l'attrice aveva fatto sapere di essere in dolce attesa i due si sono conosciuti all'interno della casa del grande fratello vip e da allora non si sono più lasciti oggi non vedono l'ora di costruire una famiglia insieme e diventare genitori rosalinda cannavo e andrea zenga hanno deciso di organizzare un gender reveal con parenti e amici per scoprire il sesso del primo figlio in arrivo i futuri genitori hanno festeggiato sabato 13 aprile con palloncini rosa e azzurri decorazioni colorate e una grande scatola con scritto è un maschio o una femmina insieme l'hanno aperta e sono stati sommersi da una pioggia di petali rosa i due ex concorrente del gf vit diventeranno genitori di una bambina una delle emozioni più grandi che potessimo mai provare adesso possiamo finalmente immaginarti principessa nostra grazie a tutte le persone che hanno condiviso con noi questo momento unico ha scritto l'attrice sui suoi social condividendo con tutti i fan la gioia della bella notizia i due si sono conosciuti e innamorati nel 2021 quando hanno partecipato al grande fratello vip insieme da allora non si sono più lasciati e ora stanno per costruire la loro famiglia a fine marzo avevano dato la notizia della gravidanza con un simpatico video condiviso sui social il parto dovrebbe avvenire a settembre 2024 se è femminuccia dafne o camilla aveva raccontato l'attrice a verissimo a proposito del nome da dare alla figlia che hanno scoperto essere una femminuccia e alla domanda se sia in programma il matrimonio zenga ha spiegato viviamo già come marito e moglie il matrimonio è il prossimo passo forse l'anello arriverò con il bambino o la bambina a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.